Eccoci qua ragazzi, post partita finalmente è finita una sofferenza dal settantesimo praticamente a trattenere in continuazione il respiro poi c'è stato un periodo finale dove siamo riusciti un pochino di più a uscire da questa trappola che ci aveva teso l'Atalanta insomma un quarto d'ora di assedio completo ma poi ce l'abbiamo fatta però cosa abbiamo visto oggi di concreto, di analizzabile? abbiamo visto una squadra che va a giocare a Bergamo e che statisticamente vince a Bergamo dopo tanto tempo vero segniamo due rigori ma sono due rigori cercati e ricercati nel senso il primo è avvenuto grazie a una bellissima azione e dei bei scambi su quella catena sottile Biraghi Duncan e poi Vlaovic con poi Mele che prende il pallone di mano nettissimo giusto anche l'ammunizione, il rosso sarebbe stato anche troppo a parer mio poi bellissimo anche il fallo procurato da Buonaventura con quel doppio passo steso lì nessuno giustamente ha protestato, i rigori calciati da Dusan veramente impeccabili il primo freddissimo sull'angolino basso più di precisione mentre il secondo di piena potenza mi è dispiaciuto un pochino la disattenzione, se così si può dire, di Gajekon che un pochino sciupacchia il giudizio complessivo sulla sua partita di oggi, comunque un tridente che ha funzionato, sottile deve ancora ingranare si è visto che sottoporta deve compiere decisioni un pochino più ponderate perché comunque si era fuori gioco con l'azione lì dove lui aveva l'occasione di aprire il piattone e di fare gol di destro a giro però comunque lì bisogna essere un pochino più freddi gli manca ancora quell'istinto da killer che può avere Vlaovic ad esempio a proposito di Vlaovic, come ho detto prestazione bellissima a parte i due rigori ma anche una grandissima protezione del pallone contro dei clienti non facili per niente anzi ha dato il respiro più volte alla squadra la vera giocata oltre che ai rigori, oltre che a tutto il resto è stato il fallo che si è preso all'ultimo, lì è stato veramente bravissimo ha chiuso la partita lì anche perché l'Atalanta stava iniziando anche negli ultimi minuti aveva ancora di più ripreso campo per poterci fare male se si fosse pareggiata veramente sarebbe stato molto più arrabbiato però tre punti importantissimi, ve l'avevo detto e vincevamo oggi ve l'avevo pronosticato nel video pre-partita una prestazione difensiva quasi buona alternata da alcune disattenzioni ma la coppia centrale titolare non dovrebbe essere questa quando ritornerà poi quarta perché per il caos appunto dei nazionali sudamericani quando ritornerà quarta ci accorgeremo che poi alla fine questa difesa proprio male non è, Odrio Zola mi è piaciuto veramente tanto è un upgrade rispetto a venuti ragazzi, sono due categorie diverse sì c'è stato quel fallo su Gosens se non sbaglio che gli ha procurato il giallo però il resto ha fatto una prestazione sia difensiva che offensiva comunque da attenzionare e contiamo che è arrivato da pochi giorni nella Fiorentina quindi deve ancora diciamo ingranare a pieni ritmi Biraghi ha alternato una prestazione offensiva a mio parere non eccellente oggi però in difesa ha fatto molti interventi importanti a parte il tunnel che si è fatto fare da Zappagosta all'inizio ma per il resto è stato molto attento in difesa la Coppa Centrale non mi è dispiaciuta invece Terracciano ha alcuni salvataggi importanti veramente sull'ultima smanacciata mi ha un pochino preoccupato però anche su tutti i retropassaggi non ne ha sbagliato poi un rinvio diciamo che non ha come dire sprecato le occasioni di poi riaprire il gioco quindi non mi è dispiaciuto nemmeno alla prestazione di Terracciano oggi arriviamo al centrocampo non mi è diciamo non mi ha sorpresissimo Torreira però si vede che comunque è un ruolo che quello della Fiorentina doveva andare in qualche modo a tappare come buco perché comunque Torreira da tempi di gioco fa delle cose molto interessanti anche dei movimenti senza palla molto interessanti e quindi diciamo che Lucas Torreira può ingranare e diventare un perno del centrocampo della Fiorentina il Duncan offensivo poi mi è piaciuto quello difensivo un pochino meno stesso discorso si può fare poi per Jack Buonaventura bellissimo il rigore si è procurato alcune trame offensive interessanti in fase di interdizione una mezzala che aiuta meno forse addirittura di Duncan come ho detto il tridente non mi è dispiaciuto affatto Cagliacono buona prestazione macchiata solo da quel calcio di rigore che ha procurato lo spagnolo verso il sessantesimo se non sbaglio infatti ci ha fatto un po' sudare lì per lì Sottil come ho detto deve maturare e Vlaovic è prestazione magnifica come vi ho già detto passiamo poi ai sostituti Odriozola vabbè che ha sostituito i venuti l'abbiamo già detto altra categoria a mio modestissimo parere Amrabat ottimo innesto a più di metà partita oramai a quel punto buon fisico al centrocampo Saponara non male sulla fascia sinistra abbiamo capito che Teleno lo utilizzerà maggiormente lì vediamo cosa poi potrà combinare in futuro da subentrante Nico Gonzalez non male Castrovilli mi è piaciuto molto si è procurato dei falli molto interessanti ha fatto delle percussioni pericolose per quanto riguarda la fase offensiva in fase difensiva ha rischiato tantissimo su una punizione finale sulla quale poi Palomini è impattato di testa però lì c'era pronto Terracciano allora cosa ci dice poi questa vittoria? allora in termini di classifica poi nulla ragazzi cioè nel senso l'avevo detto è importante fare punti contro queste squadre ma lo vedremo poi nel percorso come ci insegna Lely Adani la vera prestazione di questa partita la vedremo poi riproposta in altri match e poi ci intenderemo più avanti sicuramente non mi preoccupate però comunque dà molta fiducia fa capire che questa è una squadra che come ho detto se la giocano tutti e chiudo con una piccola provocazione questa con Gattuso la perdevamo detto questo ragazzi sempre sempre forza viola noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao